Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, bentrovati nuovamente qui sul mio canale, mercoledì 9 agosto, momento in cui io vado in registrata e in corso all'amichevole in famiglia, la partitella tra Juventus Prima Squadra e Juventus Next Generation, beati tutti quanti coloro i quali potranno o avranno potuto assistere da vicino e dal vivo al match aperto a tutti, aperto al pubblico e che ovviamente può dare le prime indicazioni dal vivo a voi che avete voglia di Juve, avete voglia di capire se c'è qualcosa di nuovo nella Juve che sta nascendo, una Juve peraltro molto simile a quella passata perché di mercato ce n'è stato davvero poco fino ad ora, ma di nomi ne continuano a uscire, oggi altro giro, altro nome, qui per commentarlo sul mio canale, prima però come sempre mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la catena notifiche, mettete un bel like al contenuto in fondo alla puntata se questa sarà stata di vostro gradimento, ma soprattutto commentate e lasciate le vostre preferenze sui nomi che stanno transitando in questi giorni accostati alla mediana bianconera per volere di Massimiliano Allegri che chiede di implementare il centrocampo con un ulteriore nome di rinforzo, qual è la vostra preferenza, quale nome sposereste ovviamente tra quelli che circolano in orbita bianconera. In questo momento la Juve sta sostenendo questa amichevole porta aperte, amichevole in famiglia per mostrarsi al pubblico di casa, buona iniziativa da parte della Juventus, bella iniziativa devo dire, ma nel frattempo noi siamo qui a commentare i continui nomi che escono perché ieri abbiamo parlato di Kefrem Turam, giocatore per il quale io metterei veramente la firma col sangue perché la Juve potesse davvero mettere sotto contrasto questo ragazzo classe 2001 dalle grandi doti tecnico e fisiche, operazione ovviamente che si vocifera intorno ai 40 milioni, quelli richiesti dal Nista, operazione non semplice perché non dimentichiamolo la Juve, ha il problema delle cessioni. Siamo sempre in corso con i soliti discorsi, quindi inutile ripeterci, ma oggi si fa il nome di Amrabat della Fiorentina su cui c'è il Manchester United ma che può essere un nome così improvviso per la mediana bianconera, giocatore che conosce ovviamente il campionato italiano e che non disdegnerebbe di rimanere in campionato italiano alla luce del fatto che potrebbe davvero accendersi l'interesse della Juventus su di lui. Ovviamente considerati i nomi usciti, quelli di Sergei Milinkovic-Savic, una tipologia di giocatore, una tipologia di Mezzala, considerato il nome di Frank C. un'altra tipologia di giocatore differente da Sergei Milinkovic-Savic ma comunque un giocatore che può garantire quantità e qualità, oggi esce questo nome, quello di Sofiana Amrabat, giocatore che da un certo punto di vista della quantità non è assolutamente discutibile, giocatore che ha fornito peraltro un ottimo mondiale quello in Qatar e che nella Fiorentina dopo essersi messo ovviamente egregiamente in luce con la maglia dell'Elas Verona ha offerto delle prestazioni sicuramente confortanti sotto un punto di vista ma è un giocatore che fa della quantità soprattutto la sua dote principale, un giocatore in grado di interrompere l'azione avversaria, in grado di recuperare molti palloni ma se la Juve cerca una Mezzala di inserimento, cerca una Mezzala in grado di offrire anche della qualità io credo che il nome di Amrabat non sia il nome centrale su cui focalizzarsi. Non ho, giusto per rispondere eventualmente in anticipo a possibili domande sotto il contenuto, nessun tipo di riscontro in merito, quello che posso dirvi è che parlando con persone dell'ambiente fiorentino mi descrivono il giocatore assolutamente valido da questo punto di vista della quantità e della possibilità di interrompere recuperare palloni meno se si tratta di avere una squadra in grado di impostare, di voler magari fare del possesso palla o comunque cercare di trattenere il pallone tra i piedi, fraseggiare per impedire che sia la squadra avversaria ad averlo e quindi ad essere pericolosa. Ecco non è Amrabat quel tipo di giocatore e allora ovviamente va capito che cosa va cercando la Juventus, che cosa va cercando Massimiliano Allegri da inserire nella mediana bianconera, la mediana bianconera che come ho avuto modo oggi di ribadire ospite su Radio Bianconera deve far fronte alla sicura defezione perlomeno in via iniziale di Paul Pogba che non offre assolutamente garanzie, quelle che la Juventus ovviamente si aspettava, si aspetta da un giocatore così pagato ma soprattutto da un giocatore facente parte della Rosa, un giocatore che inutile ribadirlo ad oggi non ha saputo offrire nulla del proprio apporto o meglio qualche minuto, qualche presenza nella scorsa stagione ha dimostrato che con lui in campo sarebbe tutta un'altra Juve, purtroppo con lui in campo l'abbiamo visto davvero poco e quindi anche nella stagione che va ad iniziare la Juve e soprattutto Massimiliano Allegri cominciano a nutrire più di qualche dubbio sulla sua continuità di rendimento, tanto che insiste Massimiliano Allegri con la richiesta di un centrocampista e la ruota è una ruota che gira da Milinkovic-Savic a Kessy, a Kefraim-Turam, ora il nome di Sofiane Ambrabat, poi come spesso avete scritto sotto i contenuti non è detto che arrivi nessuno di questi giocatori, non è nemmeno detto che possa arrivare quel centrocampista tanto inseguito come spesso è accaduto in passato, la Juve alla ricerca di un giocatore e poi se ne sono fatte tante questioni alla fine la Juve è rimasta con il cerino in mano perché intanto dobbiamo mettere a segno alla voce cessioni quelle di sicuramente Dennis Zaccaria, ci sono altri giocatori in esubero come, o meglio definirli in esubero forse non è corretto, comunque che non dovrebbero far parte della rosa e che debbono fare spazio sia numerico sia salariale come Baranicea, come Weston McKennie, come Mattias Soule, insomma sono diversi i giocatori che dovrebbero uscire per poter pensare poi di fare spazio a chi eventualmente deve entrare. Fronte Lukaku, non si registrano novità, si continua a vociferare di un avvicinamento del Chelsea alla richiesta che esce da parte della Juve, io l'unica novità che posso registrarvi è che ora il Chelsea è nella condizione di dover prendere una decisione stretto giro, dato l'infortunio occorso a un Kunku che dovrà rimanere fermo ai boss per circa quattro mesi e quindi il Chelsea deve prendere seriamente in considerazione l'eventuale inserimento in rosa di un altro attaccante. Sarà Dujan Blakovic, questo ancora non è certo, lo vedremo, cerchiamo di capirlo meglio nei prossimi giorni, intanto quello che possiamo registrare è che il mercato della Juve di cui tanto stiamo parlando e di cui tanto cerchiamo di raccontare per quelle che ovviamente sono le informazioni che ruotano e che escono attorno alla vecchia signora ci racconta appunto il mercato piuttosto fermo, statico, dove il solo Timo TVA è l'acquisto reale effettuato, c'è stato il rientro di Andrea Cambiaso che sarà presentato domani e su cui la Juve confida veramente tanto nel corso di questa stagione, tanto che è sostanzialmente un giocatore fuori dal mercato, si è parlato di una possibile eccessione solo a fronte di una proposta da circa 20-25 milioni di euro, solo in quel caso la Juve prenderà in considerazione l'uscita del ragazzo e poi l'ultima considerazione che va fatta è ovviamente intorno all'esterno di sinistra, si è raccontato di questo Carlos Augusto che è piaciuto tanto alla Juventus, che piace tanto alla Juventus, che ha ben figurato anche nel trofeo Berlusconi, ma come vado ripetendo devono essere fatte prima le uscite e anche qui sul fronte Luca Pellegrini non si registrano in questo momento ulteriori passi avanti in una trattativa tra Lazio e Juventus che deve vedere a secondare le richieste del difensore bianconero, che tornerebbe volentieri alla Lazio ma che non è disposto di fare ulteriori sconti alla società bianco-geleste, che deve puntare su di lui se davvero lo vuole. Quindi attendiamo di capire i prossimi sviluppi, nel frattempo il mercato è sostanzialmente bloccato ma intanto continuano ad uscire i nomi intorno al centrocampio bianconero, l'ultimo è quello di Sofiane Ambravat ditemi quello che pensate, quale sarebbe il vostro preferito tra quelli usciti e tra quelli ovviamente fattibili dopodiché ci risentiamo, ci aggiorniamo e intanto godetevi, se siete alla visione di Juventus A, Juventus B o Juventus prima squadra, Juventus Next Gen, ditemi quelle che sono state le vostre impressioni. Fino alla fine, forza Juve, ciao! Fino alla fine, forza Juventus A, Juventus A. Fino alla fine, forza Juventus A, Juventus A, Juventus A, Juventus A, Juventus A.